Siamo qua con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto in studio perché oggi parliamo di stadio. Ancora parlare di San Siro? No, non San Siro, San Donato. Sempre santi sono. San Donato, Aga San Francesco. Sembra che ormai se non hai i santi non puoi fare uno stadio perché veramente i santi in paradiso forse te ne servono anche per le maledizioni che dimandano a volte i cittadini. Buongiorno a Fabio Songa e Marco Menichetti. Buongiorno. 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 Allora siamo qui con Fabio Songa appunto di Chiaravalle e con Marco Menichetti, uno dei referenti del comitato non stadio a San Donato. Benvenuti, grazie. Come si sta da quelle parti in questi giorni? Come va? Bene. Allora bene. Si starebbe sempre bene se non si leggessero certe cose sui giornali, nemmeno a dire, nel vostro caso. Allora, iniziamo perché vi ho chiamato, perché di qualche settimana fa la notizia è che voi avevate proposto un referendum al Comune di San Donato, no? E il Comune di San Donato è felicissimo di questa proposta, immagino, giusto Marco? Ecco. Allora, innanzitutto l'avevamo proposto noi, ma assieme ai cittadini che dovevano firmare formalmente questa richiesta, anche i cittadini che non avevano ancora deciso se sono per il sì o per il no, giusto. Per cui questo referendum serviva, referendum consultivo, proprio per raccogliere l'opinione di una città che ad oggi non è mai stata interpellata e sentita su questo tema. E ce l'hanno bocciato, quindi l'idea è che non fossero così contenti. Eh, bocciato. Come mai si sa la motivazione? C'è già uscita una motivazione? Vi hanno spiegato un perché? Sì, allora, sono stati nominati tre membri del collegio che doveva decidere, nominati dall'amministrazione, diciamo dalla maggioranza. Sostanzialmente ci hanno detto... Quindi erano tre di maggioranza? Allora, no, c'è sanitario comunale, ci sono delle indicazioni, però le scelte, ad esempio quale era l'avvocato da scegliere e da mettere nel collegio, comunque è passato per il Consiglio Comunale, quindi da parte della maggioranza. Ma al di là di questo, la motivazione particolarmente strana è che, pur essendo un referendum consultivo, pur essendo un tema in cui si chiedeva solamente, in generale, se si era d'accordo o meno su questa idea... Potevano dire fuori che eravate tutti d'accordo, ma eravate gli unici due contrari magari, no? Questa è la democrazia. Assolutamente quello che volevamo chiedere, perché veniamo dipinti come pochi facinorosi che abbiamo certe idee, e invece volevamo sentire la città, ci è stato detto che questo avrebbe sostanzialmente prefigurato delle scelte private successive, quindi questo non poteva essere consentito. Ma consultivo, poteva anche uscire di no, e potevano fare comunque lo stadio, poteva uscire se vogliamo lo stadio e alla fine uno dice no, non ve lo faccio più, quindi cioè nel senso... però niente... In più, ripeto, la materia referendaria che può essere soggetta a consultazione a livello comunale a San Donato Milanese non deve, questo lo dice lo statuto, andare a ledere, diciamo, diritti urbanistici già definiti, ma qui siamo sul futuribile, e quindi ed era per quello anzi la cosa migliore da fare, anche perché apriva un dibattito la possibilità tutti di informarsi e approfondire la tua macchina. E nei giorni successivi un'altra notizia arriva sui giornali, anzi proprio qualche ora fa praticamente, poi dei giorni fa sono mi colloco nel successo, e quando l'ho letto ho pensato subito a te Fabio, chissà come sarà contento finalmente perché hanno bonificato la zona, che era tutto uno schifo e quindi giustamente adesso viene bonificata, ma Fabio sei contento che ti bonificano le zone intorno a casa? Ma posto in questi termini è certo che non sarebbe contento. Io sul giornale ho letto questo, sul giornale. Ebbè, andiamo un po' a monte di tutto questo, sulla vicenda Stadio San Donato purtroppo c'è una cortina di disinformazione micidiale, anche sulla stessa area, molti cittadini, non solo di Milano ma anche di San Donato, non sanno esattamente dove sia l'area e non ne conoscono la potenzialità e il valore, perché stiamo parlando di un polmone verde enorme. Lunedì mattina, proprio in seguito alle notizie di stampa, siamo andati a fare un piccolo presidio volante organizzato la sera prima con una trentina di persone, col WWF, che ha fatto un esposto. Infatti devo dire, per ricordare che la Repubblica infatti scrive, Stadio Milano San Donato, via alla bonifica dell'area del Parco Sud, diffida il WWF e protesta dei residenti. E c'è anche una foto dove c'è anche tutto, che in realtà non si capisce bene, perché sembrate quasi che siete lì che state festeggiando per la bonifica, quindi devo dire che su quello un po', come sempre, l'internet non aiuta. Sai perché eravamo non troppo affranti in quel momento? Perché la cosiddetta bonifica è cominciata con un'operazione piccola, che è assolutamente necessaria e che secondo me ogni privato deve fare, cioè ripulire i luoghi in cui ci sono macerie o ci sono rifiuti. Ma questa è così degradata come viene raccontata? No, assolutamente. Allora, guarda, io invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a fare un'operazione semplicissima, a entrare su internet e digitare area San Francesco San Donato. Così vedono di che cosa stiamo parlando. Guarda, ieri c'è stato un posto di un cittadino di San Donato, tra l'altro acculturato, non come molti altri che vomitano insulti e basta, che ha fatto un ragionamento, secondo lui, su quest'area. Beh, ma quel ragionamento si capiva che era fatto senza la minima conoscenza dell'area stessa. Parla di un triangolino inquinato. Ora, andate su internet, oppure vi invito, io invito tutti, invito il sindaco di Milano, invito il sindaco di San Donato, chiunque, quando parlo con qualcuno lo invito a venire a casa mia, ci prendiamo un caffè in piazza a Chiaravalle, ci facciamo una passeggiata di 100 metri e arriviamo ai luoghi dove sorgerà lo stadio. Lì c'è una vegetazione importante, c'è una fauna importante, proprio dove sorgerà allo stadio ho visto una volpe poco tempo fa, c'è un'avifauna notevolissima e c'è soprattutto un patrimonio storico-culturale da salvaguardare. Già tutti gli interventi che sono stati fatti con le tangenziali, con l'alta velocità, con la linea ferroviaria hanno rovinato l'area. E' quello che mi viene sempre un po' da sorridere, ma sorriso amaro in questo caso, perché stiamo parlando di un'area che non è che proprio sia poco urbanizzata, nel senso che lì tra svincoli autostradali, tangenziali, alte velocità, stazioni, poi cosa abbiamo? Vari comuni, perché c'è Milano con il luogo di Chiaravalle, poi San Donato con le varie frazioni, allargando ancora di più ci arriviamo comunque in zona Rogoredo, sedi televisioni internazionali, nel senso è una zona dove c'è veramente, c'è l'Eni a San Donato, quanti dipendenti avrà l'Eni adesso? Non avranno magari più i 200 milioni di dipendenti che aveva negli anni 80, ma comunque c'è… Stiamo parlando di 10.000 dipendenti come minimo. Ecco, capito, poi facciamo che alcuni fanno smart working, va bene, ma comunque è un paese, è un paese nel paese, nel senso, in tutto questo hanno pensato di trovare un… Ma sì dai, c'è ancora un bel polmone verde perché lasciarlo. 100 metri per 100 metri che ci facciamo un bello stadio dentro, no? No, è più grande e tra l'altro ha un bosco e una zona umida perché lì siamo in una zona di risorgive, per cui l'acqua è sotto, se no in Monaci non ci sarebbero andati. L'altra volta avevamo detto che in Monaci sono intelligenti. Infatti, infatti. Va bene, comunque allora facciamo così adesso, andiamo con un po' di musica e poi dopo torniamo sempre qui a parlare perché insomma le cose da raccontare sullo stadio possibile, vestito a San Donato sono davvero, davvero tante. Andiamo avanti con i Comacose, scusate, con Malavita. Comacose con Malavita e insomma speriamo invece che sia una bella vita quella che si potrà fare anche nei prossimi anni a San Donato. Sì, sono di parte, sì, ma è ovvio che in questo caso sono di parte perché quando si vuole costruire su del verde, quando si vuole fare cemento, quando soprattutto si vuole fare uno stadio che c'è già, per me, perché quello è il tema, cioè nel senso a me, adesso non mi dispiace per Fabio e per Marco, ma se ci fosse bisogno direi, oh ragazzi, pigliatevi questo stadio, ma non ce n'è bisogno, questo è il mio tema, ma lo lascio dire a voi, lo lascio dire a voi, allora parlavamo della bonifica, bonifica che quindi è avvenuta in un'area che però, come dicevamo, bisogna anche trattare un po' con i guanti, perché non è proprio, cioè non è un pezzo di terra, non è avvenuta la bonifica, sono iniziati dei lavori di una piccola società che sta facendo un'opera che va benissimo, cioè liberare dai rifiuti un'area, perché stiamo parlando di una porzione molto piccola dell'area San Francesco, ma molto importante perché è dove c'è la cascina San Francesco, che è appunto una cascina storica delle grange dell'Abbazia. Ecco, l'area, l'area, hai capito di chi è, chi si è comprata, ma riguardo te, che so che tu, si è capito, chi ha chiamato gli operai per andare a fare le pulizie, cioè quello è il concetto, nel senso, o qualcuno si è svegliato e ha detto, ma di mattina mi sento buono e ti mando la signora della pulizia a casa tua a dire, ma sì dai diamo una mano a Marco, gli facciamo, gli riassettiamo il salotto così, in simpatia. Allora, il veicolo con cui stanno oggi facendo queste operazioni, sia della bonifica piuttosto che della, a portare avanti la proposta di stadio, è una società acquisita, almeno dice il Milan al 90%, che è la società Sport Life City, è nata piccolissima, senza dipendenti, nata per, ai tempi per proporre una cosa diversa che era l'arena, un'arena sportiva che in pratica è un progetto che è morto quando è partita Santa Giulia, che è lì vicino. Noi contestiamo, addirittura abbiamo presentato dei ricorsi, ancora una volta come cittadini, contestiamo che la procedura sia partita, avvenuta, ancora quando ad oggi non abbiamo evidenza dei contratti effettivi e quindi del possesso del bene reale. Le dichiarazioni sui giornali non ci bastano e non dovrebbero bastare soprattutto un'amministrazione che ha attivato un accordo di programma con Regione e con tutta una serie di clienti. Marco, mi hai già tirato a fare un paio di volte, quindi devo chiedertelo come va con l'amministrazione? Cosa dice l'amministrazione di San Donato e tutto questo? Allora, come va? Noi naturalmente continuiamo e chiediamo continuamente confronto, dialogo, o discussione. Il punto è che ci dicono che questa discussione e confronto avverrà sostanzialmente a cose avvenute, cioè dicono prima decidiamo e poi vi attiviamo. Un elemento per far capire, ad agosto 2023, quindi ormai siamo un anno fa, noi abbiamo depositato una richiesta con un PEC ufficiale in comune in cui chiedevamo l'avvio immediato delle procedure di Vias, quindi di valutazione di impatto ambientale ma anche sanitario. Non abbiamo ottenuto risposta. Si è mai parlato di dibattito pubblico, in questo caso con voi? Minano l'abbiamo fatto, è molto divertente stato anche. Se ne è parlato, nel senso che è stato detto successivamente al no al referendum, noi poi attiveremo forme di partecipazione e di confronto, fra cui è stato citato anche il dibattito pubblico. Tecnicamente se non sbaglio devono farlo per forza, perché su uno stadio devi per forza fare il dibattito pubblico, però vabbè poi il problema è come lo fare. Però ecco, il punto è che anche ad esempio quando in Consiglio Comunale hanno discusso dell'avvio dell'accordo di programma, noi cittadini, alcuni anche consiglieri, hanno chiesto almeno di non dare un mandato in bianco al sindaco, di andare a questo tavolo, ma in qualche modo di relazionare e soprattutto di chiedere tempo per tempo che cosa si deve fare e quali sono le scelte da attuare. Certo che sono cose che in altre sicurazioni vengono fatte, nel senso che se c'è il grosso investitore che vuole dire che fa il cinto commerciale, uno dice ok aspetta sentiamo un attimino cosa gli permettiamo di fare o no. Ma rafforzerebbe anche il potere stesso del sindaco perché si sente i cittadini al fianco e teniamo anche conto che ad oggi l'unico documento reale che c'è… Cittadini che molto meglio l'hanno anche votato in molta parte… No, no, in gran parte, anche all'interno del comitato, ci sono tantissime persone che dicono che l'hanno sostenuto, ma teniamo conto che c'è un altro problema… Mi è piaciuto questo l'hanno sostenuto, mi ha fatto capire Marco che non è che l'ha sostenuto fin dal principio… Diciamo che qualche dubbio… No, dai Marco scusami, 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 Marco… No, 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 ma ci sta… No, volevo dire che anche gli stessi tecnici hanno prodotto l'unico documento ufficiale al momento su quella che è la proposta di stadio piena zeppa di dubbi, di temi mancanti, di problematicità che i tecnici del comune hanno rilevato… Il traffico, la sicurezza e altro, per cui procedere senza delle tappe in cui c'è di nuovo un confronto, non solo tecnico, ma a questo punto anche con i cittadini, perché i cittadini bisogna chiedergli ad esempio se sono d'accordo che gli riempieranno tutti i posti auto che hanno nelle strade cittadine, bisognerebbe chiederglielo, bisognerebbe dirglielo prima di decidere. E beh, insomma, questo è un po' il tema, la partecipazione, tanto spesso parliamo di partecipazione, però poi non è sempre così semplice. Nel vostro caso però siete riusciti nel miracolo, cioè nel senso che state facendo partecipazione davvero dei cittadini, sono belli partecipativi. Posso dirti che sono stupito anch'io, nel senso che siamo in un periodo abbastanza addormentato rispetto alla partecipazione dei cittadini. Abbiamo visto le lezioni come sono andate. Invece, innanzitutto devo dire che ci siamo mossi sempre come fratelli, noi di Chiaravalle e i nostri amici di San Donato. Tant'è che non abbiamo creato un comitato di Chiaravalle, ci siamo iscritti, quelli che ovviamente erano d'accordo a contrastare lo stadio, a quello di San Donato. Ma poi, guarda, poco dopo che abbiamo avuto la notizia del referendum abbiamo organizzato come comitato, qui dico abbiamo, una cena di sostegno per le attività del comitato perché noi oltre alle spese per il referendum abbiamo delle spese rilevanti perché abbiamo fatto un ricorso articolato al TAR. Prima parlavi di avvocato, non credo che ci sono dei costi. No, ci sono dei costi evidenti perché è un ricorso, tra l'altro, che prevede una discussione molto articolata e molto lunga perché noi abbiamo fatto moltissime rilevazioni tipo tecnico o giuridico. Allora ti faccio domanda che farebbe su qualsiasi giornalista, qual era il menù della cena? No, scherzo, com'è andata la partecipazione della cena? Era la pizza? Era un giro pizza. Non avete mai notato, c'è il G8, si parla del menù del G8, c'è... Nonostante la pizza fosse buonissima, assolutamente buonissima. Com'è andata questa cena? Molto bene, molto bene nel senso che in una situazione come questa abbiamo chiesto ai cittadini che volevano sostenere le nostre spese di spendere 50 euro per mangiare una pizza, molti sono venuti con la famiglia, quindi sono spese di un certo rilievo, molti incredibilmente hanno dato molto di più di 50 euro perché hanno capito. Abbiamo messo su 110 persone nel giro di pochi giorni con una scarsa pubblicizzazione perché volevamo innanzitutto accontentare quelli che avevano lavorato fino a quel momento, abbiamo rifiutato molte iscrizioni e molti di noi per vari motivi non potevano esserci, vuol dire che abbiamo una risposta forte ed è stata una bella serata. Quelli che non c'erano hanno pagato comunque la quota senza esserci. Molte persone hanno pagato senza esserci. Insomma, appunto dicevo, il miracolo comunque è avvenuto, nel senso, quella della partecipazione che magari da una parte dovrebbe esserci invece non viene fatta, insomma, quando le istituzioni parlano di partecipazione e poi non chiamano alla vera partecipazione, alcuni cittadini ce la fanno e quindi davvero io voglio fare i complimenti su questo. Posso solo ricordare una cosa, 3.000 firme della petizione è stato il primo passaggio, quindi subito 3.000 firme. Insomma, già questo vi fa capire, va bene. Adesso ci fermiamo un attimino per un po' di musica, ma tanto poi torniamo ancora qui a parlare, quindi Fabio, tieni in caldo quello che vevi da dirmi perché me lo dici fra pochissimo. Dopo Dargen D'Amico, dopo un paio di consigli per gli acquisti, poi torniamo qua, perché siamo sempre qui alle 8 e 26 minuti, qui su Cristal Radio, vi ricordo anche il numero di WhatsApp, 331-7853-555, grazie mille a chi ci ha scritto questa mattina, continuate a scriverci che siamo qua tutti fino alle 9, a raccontarvi un po' quello che succede a Milano, a San Donato in questo caso. E insomma, con i giornali, con i nostri ospiti Fabio Soronga e Marco Venichetti, adesso è il momento di Dargen D'Amico con Onda Alta alle 8 e 26, Cristal Radio, Good Morning Milano, un po' di musica, poi tra pochissimo siamo ancora qua, siamo ancora qua, non cambiate canale, siamo qua. Muffami, muffami, dice sembra, no? Sì, è sempre Tons and I con Dance Monkey, alle 8 e 35, ultima parte di trasmissione, sempre qui a parlare dello stadio, del possibile stadio di San Donato, vi metto il possibile davanti, grazie. Prego, prego, so che ogni volta che dico stare a San Donato, a San Donato ci viene un colpo, quindi insomma, Fabio Songa e Marco Venichetti, allora dicevamo, i prossimi, la partecipazione, oh ce l'avete nel senso, la gente partecipa, e adesso quindi i prossimi passi quali saranno? Cosa si prospetta all'orizzonte di quel di San Donato, all'ombra del campanile di Chiaravalle? Guarda, i prossimi passi, per quanto ci riguarda, sono l'informazione. Noi battiamo a tappeto, abbiamo prodotto materiali di vario tipo, sia cartacei, sia filmati, e vogliamo, perché il problema grosso è l'informazione, io sarò ottimista, sarò, ma credo che se la gente ha le informazioni corrette, poi ragiona in maniera corretta. Io sono convinto che, ripeto, se porto una persona a vedere di che cosa stiamo parlando, vederlo sul, la convinco. Io ho convinto la stragrande maggioranza dei miei vicini di casa che all'inizio pensavano che potesse esserci qualche vantaggio ad avere uno stadio lì, poi quando abbiamo ragionato, fatto vedere cartine, purtroppo la conoscenza è faticosa, è molto più facile fare il leone da tastiera e dire quattro insulti. Noi cerchiamo di promuovere conoscenza, e questo è il primo punto, e quindi faremo ancora assemblee, iniziative, e poi andremo avanti anche dal punto di vista legale, perché io ho molta fiducia che il ricorso al TAR possa avere un certo... Infatti, perché adesso con questa cosa del referendum che non è, dove avete deciso di fare come funzionerà, cioè... E noi continueremo a chiedere dibattiti. Ok. Posso chiudere con una battuta, poi faccio parlare a Marco. Per me è anche una questione morale, te lo posso dire con grande... una questione di coscienza. Cioè, se io fossi... io ho fatto tantissimi anni fa il consigliere di zona Milano. Ok. Ho partecipato a scrivere un programma e ho cercato di fare quello che ho scritto. Se io fossi un sindaco che si presenta con un punto centrale, il no al consumo di suolo, e che ha dichiarato in campagna elettorale che sull'area San Francesco avrebbe fatto di tutto per ridimensionare il progetto presente... Ok. Perché c'era già un progetto. E poi faccio il contrario. Perché c'era già un progetto su quell'area, no? Sì, c'era quello che... si può definire una proposta che poi è naufragata perché nel momento di fare un palazzetto dello sport di 18.000 persone. Ok. E già questo ha suscitato ovviamente molte perplessità e molte opposizioni. Poi il fatto che sia stato costruito, che si sta costruendo Santa Giulia, ovviamente fa cadere quella prospettiva. Quindi il sindaco si... E il sindaco dovrebbe... Questo era più volte che l'hai portato, non è secondo me un tecnicismo. No, è una questione morale. Io mi prendo un impegno, se non sono in grado di mantenere quell'impegno mi dimetto. Oppure cambio idea, che è legittimo, però non ho più il mandato per fare le cose. Allora mi ripresento agli elettori e dico guardate ho cambiato idea, voglio fare lo stadio, voglio consumare quel suolo lì. Se mi votano lo faccio, se non mi votano no. E questo è il sale della democrazia che purtroppo sta evaporando. E non tutti hanno magari manovre alla Macron, avrebbero definito in questo momento, no? Insomma, poi bisogna capire. Marco, quindi prossimi passi. Allora, tornando lì, da una parte molte delle energie, soprattutto economiche, andranno verso il ricorso. Contiamo molto sulla qualità degli avvocati che ci stanno assistendo e delle ragioni anche procedurali per cui ci faremo sentire. Però il nodo rimane in effetti quello del coinvolgimento dei cittadini, ma ne discuteremo, perché poi ogni tanto noi facciamo le nostre riunioni di assemblee con ormai siamo quasi a 200 iscritti, quindi persone anche che partecipano attivamente al comitato, quindi non siamo i due o tre gatti, come viene detto. Troveremo delle forme ulteriori di consultazione e di coinvolgimento. Cioè non ci danno il referendum o rilanceremo nuovamente la petizione, ma forse ancora meglio chiederemo in qualche altro modo il sì e il no, perché la petizione è per quelli che appoggiano il no e ne sono già convinti. Noi veramente vogliamo parlare con tutti. Con i ragazzi, io faccio l'allenatore di calcio, i ragazzi dicono, ah così ho lo stadio vicino, magari ci vado lì. Infatti, perché questa invece chi è a favore dello stadio? Quali sono le motivazioni che portano avanti? Perché è vicino e tu gli fai capire che invece ci arrivi meglio a San Siro perché già la metropolitana c'è. Marco, perché è vicino a me, per quello. No, no, dato che io poi mi occupo di mobilità sostenibile e si punta a cercare di arrivare in questi poli non più con l'auto, però non lo si può solo dichiarare. C'è stato un investimento forte a Milano per arrivare a San Siro con la metropolitana. Inoltre ci abbiamo fatto una stazione che poi devono chiudere quando c'è l'uscita dallo stadio. Questa è un'altra assurdità. Appunto, ci sono già grossissimi problemi. Da noi dicono, si inventano che forse ci metteranno la fermata dell'alta velocità per far arrivare i tifosi allo stadio. In realtà parete si vuol dire costruire. No, ma non solo, ma l'alta velocità che parte da Milano Centrale e si ferma a San Donato già determina il fatto che quello non è più un treno ad alta velocità, tanto per farsi capire. Però queste dichiarazioni non le abbiamo fatte noi, le abbiamo fatte chi propone il progetto. Quindi noi partiamo da questo punto di vista. C'è da parlare con i commercianti. C'è qualcuno che dice venderò più panini o più libri perché le persone verranno a San Donato. non sarà così perché lì costruiranno un ambito in cui tutti andranno a spendere là dentro. No, vi dico allora, qua c'è uno stadio dove non c'è quasi dentro niente. Vi dico che però i bar chiudono anche qua. Cioè nel senso, noi siamo qua a San Siro e vediamo i bar chiudere comunque, nonostante i concerti, nonostante Vasco Rossi sia trasferito per un mese praticamente a vivere qui nello stadio. Però cioè nel senso, non è detto, perché non è più lo stadio di una volta, ecco nel senso. Appunto, è questo, è questo il discorso. Vorrei anche dire che San Donato per tanti anni, io sono sandonatese da sempre, è stata conosciuta come città del lavoro, del terziario, città del verde e qui possiamo parlare, ma anche città dello sport. Della benzina verde. Anche, oggi parlano dell'idrogeno, però dello sport di base che potevamo fare in tutti i modi. Questo modello di sport va proprio nella direzione contraria. Cioè non ci sono più le strutture per far fare sport ai nostri figli e puntiamo tutto invece sul megastadio. Marco, visto che sei allenatore di calcio te lo chiedo, ma è ancora senso parlare di uno stadio per lo sport in questo caso? È ancora sport quello? O è altro? Allora, io spero che sia ancora sport. Certo, le dinamiche e anche le motivazioni che ti stanno portando a dire che c'è bisogno di questo nuovo stadio non hanno nulla a che fare con lo sport e non hanno nulla a che fare con il coinvolgimento di chi poi quel territorio lo vive e di chi ha bisogno di coinvolgere ad esempio i ragazzi, ma non solo. Oggi è quello che manca. Certamente forse i migliori potranno avere una struttura vicina per crescere e magari diventare le stelle del futuro, ma tutti gli altri, tutte le migliaia di persone, tutte le migliaia di ragazzi che una volta avevano tante opportunità, oggi queste non ce le hanno. Le nostre piscine, le nostre piste d'atletica, tutte le strutture di tutto quello che si faceva a San Donato è in una situazione diciamo di difficoltà, non voglio peggiorare. E si pensa di risolvere o di rilanciare l'immagine della città e del territorio in questo modo? No, io credo proprio che non sia questa la ricetta. Ecco, avete in realtà un alleato che non pensavo, nel senso che nessuno si lo vedava, che è il sindaco di Milano per me, perché ultimamente ha detto che no dai, non si può pensare di fare lo stadio lì, ho usato anche termini abbastanza accesi dicendo ma no, ma non esiste, dobbiamo ristrutturare San Siro come se quattro anni di storia precedente si è cancellato in un attimo, però va bene, fa niente, a Sanà gli vogliamo bene comunque. Allora guarda, io volevo proprio chiudere con una nota di speranza, perché da quando ci siamo visti è successa una cosa importantissima, cioè che il comune di Milano, con il sindaco, ha deciso di avviare il percorso perché il territorio di Chiaravalle diventi patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Quindi questo è un passaggio per noi fondamentale. Io personalmente, e ho avuto modo di farlo sapere al sindaco indirettamente perché non l'ho mai incontrato, nonostante gliel'abbia chiesto più volte, credo che il comune di Milano sia in ritardo su questa questione, ma la scelta di avviare questo processo è una scelta importante, perché guardate, non è la salvaguardia solo dell'abbazia di Chiaravalle, ma è la salvaguardia di un territorio in una proiezione in cui un territorio storico entra nel futuro, ma non devastando la natura, ma valorizzandola e integrandola. Insomma, un alleato che magari non ci si aspettava all'inizio, però è un po' importante. Bene, ricordiamo un po' le coordinate però per seguire meglio quello che fate, dove possiamo trovarvi, se avete anche eventi o altre idee, appunto, prossime e future? Immediate no, perché stiamo uscendo proprio dall'organizzazione di questa fizzata e serata che abbiamo fatto, ma vi comunicheremo e faremo sapere. Abbiamo il sito che è NostadioSdm.it, abbiamo una pagina Facebook e comunque ci potete trovare facilmente, perché siamo sempre presenti anche con banchetti sul territorio. Bene, allora ricordatevi anche che qui c'è sempre posto per voi, quindi quando ci saranno gli aggiornamenti scriveteci pure, ci ritroviamo qui. Noi fino al 28 giugno siamo qua in diretta, poi semmai ci vediamo a settembre, con spero buone notizie dalla vostra zona, dalla zona di Carevalle e da San Donato. Grazie mille a Fabio Song, grazie ancora a Marco Menichetti, saluto a tutto il comitato NostadioSdm.it, quindi porta i nostri saluti anche a tutto il comitato. Sicuramente grazie. Andiamo avanti con la musica, allora grazie ai nostri ospiti, continuiamo con la musica e poi ci vediamo fa poco qui per i saluti finali. Adesso è il momento di Gali con Paprika. Grazie a tutti.